Siamo con il sindaco di Chieti Ferrara per parlare della riqualificazione dell'edilizia popolare perché ci sono delle novità importanti. Sì, una novità importante è aver avuto accesso ad un finanziamento regionale di 1.900.000 euro che si aggiungono a quelli che avevamo già intercettati il mese scorso grazie anche al lavoro veramente encomiabile del mio assessore avvocato Enrico Raimondi e con questi soldi faremo certamente tutte quelle opere che per tanti anni non sono state fatte per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei nostri alloggi popolari. Ripeto, è una grandissima opportunità per la città perché ho constatato personalmente lo stato di degrado di molte di queste abitazioni e effettivamente occorre ridare dignità agli abitanti di questi appartamenti. Quando potrebbero partire i lavori? A brevissimo anche perché i fondi ovviamente tutti i fondi che noi intercettiamo sia quelli regionali, nazionali, europei sono temporalmente delimitati quindi in primavera questi lavori cominceranno non so dirle ovviamente per ovvi motivi in quale lasso di tempo si concretizzeranno però so di certo che prenderanno avvio nel più breve tempo possibile.